e bisogna andare un po' indietro negli anni per parlare dei miei inizi per quanto riguarda questa passione forte rivolta alle attività motorie in generale è un percorso un po' strano perché non era previsto che io facessi le scienze motorie se la comunicazione è così importante quanti esami di comunicazione si danno a scienze motorie? aprire la testa su differenti tematiche e pormi tantissime domande perché il bello di fare ricerca scientifica è che in realtà i dubbi aumentano, non si colmano essere un motivatore vuol dire principalmente essere un esempio cioè io credo in quello che faccio, io credo in quello che dico perché lo faccio io io non so, la vita bisogna sapersela accarezzare, coccolarla, bisogna amarsi prima di amare gli altri benvenuti in un'altra grande puntata del talk scienze motorie.com oggi in compagnia di un grandissimo ospite Giorgio Gatta, benvenuto Giorgio ciao grazie Giorgio è un dottore di scienze motorie, un docente ricercatore presso la scuola di Bologna corretto? corretto allora in questo spazio Giorgio parliamo con professionisti delle scienze motorie con ricercatori, come nel tuo caso, per trasferire delle idee, delle informazioni e far conoscere un percorso lo facciamo per destruttuare l'aspetto psicologico e lo facciamo condividendo un ottimo tè la prima domanda dalla quale partiamo è come è iniziato il tuo percorso nelle scienze motorie? beh, penso che l'avvicinamento allo sport è una passione che ci ha legato tutti e ci ha portato a vivere questa attività col sogno di diventare atleti, allenatori il mio percorso in particolare è passato da un atleta di medio livello io ho iniziato col canottaggio ma sono di Ravenna quindi l'acqua ha un po' accompagnato tutte le mie attività sportive diciamo che io già al second anno di ISEF lasciavo l'attività di atleta per dedicarmi più all'insegnamento e quindi diventare allenatore prima nell'ambito appunto del canottaggio dove purtroppo fisicamente non avevo talento e possibilità per competere con atleti ancora non esistevano i pesi leggeri quindi io dovevo gareggiare con atleti di un certo livello quindi per me era una sfida cercare di allenarsi sempre meglio cercare di avere una tecnica sempre più evoluta per poter competere altrimenti non c'era strada questa è rimasta un po' la spinta che mi ha portato invece a fare l'allenatore a rimanere principalmente nel mondo dell'acqua che ho seguito sia nella palla nuoto che nel nuoto fino a portarla, a farla diventare proprio la mia attività lavorativa una volta entrata all'università anche con grandi risultati perché sei partecipato anche alle Olimpiadi? l'esperienza sportiva più importante è stata con la palla nuoto, la federazione italiana nuoto con la palla nuoto sono entrato nello staff di Ratko Rudic proprio nel momento in cui la palla nuoto italiana era il numero uno nel mondo infatti in quel doppio ciclo olimpico che ci ha portato da Barcellona, Atlanta fino a Seoul eravamo campioni olimpici, campioni del mondo, campioni europei, campioni mondiali quindi era un piacere essere osservati, studiati, ripresi dagli avversari perché eravamo il riferimento più importante quindi nel mio caso che potevo applicare la ricerca, lo studio all'ambito dell'allenamento, della preparazione sia tattica che fisica era il meglio che potevo avere io ringrazierò sempre la federazione di questa splendida esperienza e quindi il tuo lavoro oggi è proprio quello di fare ricerca qua molto spesso ci sono passati anche altri ricercatori, tanti professionisti sembra che la ricerca in Italia non si faccia per niente in scienze motorie invece ci sono dei laboratori di ricerca che fanno cose molto interessanti lì come si è evoluta questa tua parte, questa tua carriera nell'ambito della ricerca? come è iniziata? si è costruita cioè è un passaggio piuttosto lungo perché io data la mia età sono nato con gli ISEF e ho insegnato all'ISEF per 15 anni quindi lavorando all'ISEF la ricerca non esisteva l'ISEF aveva già la sua caratteristica orientata verso l'insegnamento scolastico quindi centrata principalmente sulla didattica la ricerca apparteneva ad altri mondi principalmente al mondo della fisiologia con la trasformazione nelle scienze motorie diciamo si è preso atto della ricerca all'interno delle scienze motorie orientata verso il movimento e questa è una ricerca propria con caratteristiche particolari adesso il caso mio l'acqua è ancora più specifico ma il confronto con un certo tipo di ricerca classica che è stata fatta negli anni 60-70 da fisiologi era molto scollegata col campo molto scollegata logicamente non tutti ma la maggior parte di questi con la realtà sportiva questo è anche giusto da un punto di vista prettamente dello studio la ricerca non parte per essere applicativa subito parte per essere corretta per avere un certo suo crismo di scientificità quindi non è interesse del ricercatore come verranno utilizzate le cose che lui andrà a diffondere però il collegamento col movimento e con lo sport è sempre stato molto lontano adesso leggendo alcune ricerche fatte in quegli anni dove si parla dell'atleta che compie o fa certi movimenti uno si mette un po' a ridere perché i conti non tornano sembra l'attività fisica di mio nonno diciamo così perché erano studenti non erano atleti oppure erano studiati in una maniera che non è quella che lo sport o il movimento richiede adesso la ricerca scientifica diciamo tiene più in considerazione della ricaduta nel campo e di cosa il campo dice alla ricerca infatti nel nostro settore dello sport science diciamo ogni ricerca richiede sempre un'applicazione tecnica di quello che viene trovato o indicato diciamo che è ricerca fatta da persone che hanno competenze diverse dal fisiologo ci non carebbe altro le scienze motore hanno una propria identità ed è importante che la mantengano perché sono una cosa diversa dalla medicina diciamo che conosciamo e più che dalla fisiologia e basta le scienze motore hanno una propria identità io mi introduco nel senso sono sempre quasi sopra le righe nelle cose che dico a volte volutamente un po' eccessivo per dare l'idea e quando parlo con i miei studenti io dico che le scienze motorie sono un ambito di studio difficilissimo e dico con gli studenti e qui seguimi fra virgolette se volevate studiare di meno potevate studiare ingegneria questi stupiti mi guardano perché il professore c'è un ambito di studio pesante d'accordo però ci sono ambiti di studio che sono abbastanza delimitati sono pesanti, sono impegnativi richiedono un certo tipo di applicazione però tu vedi i margini, i confini di questo studio studiando scienze motorie ti trovi di fronte a tre problemi che secondo me sono molto impegnativi il primo problema è l'entità e la varietà delle scienze delle discipline che tu studi metti assieme competenze di biomeccanica competenze di fisiologia competenze di psicologia di pedagogia di biologia non è possibile ognuna di queste essenze richiederebbe tre, quattro anni di studio a parte come possiamo mettere assieme un piano così complesso oltretutto noi sappiamo che siamo portati verso una tipologia di studio più scientifico più umanistico farli convivere spesso non è facile è un po' come creare dei professionisti incompleti che dopo nell'ambito del lavoro cercano le soluzioni ai loro problemi dove si sentono più forti nell'ambito sportivo è facile sentire nelle discussioni che a seconda del tipo di preparazione un tecnico dice sì ma la tecnica è fondamentale poi ne arriva un altro dice ma non avevano la preparazione fisica perché è il suo campo dove è più ricco di commenti e di approfondimenti poi arriva un altro e dice sì ma la testa la preparazione psicologica e quindi non riuscendo a assemblare una complessità di elementi simili si rischia molto spesso di rimanere spezzettati questo è il primo problema il secondo problema è che molto spesso quello che si studia nelle scienze motorie è proprio al limite della ricerca sul campo cioè sul campo si vengono a verificare situazioni che ancora non sono spiegate da un punto di vista scientifico quando un atleta arriva sull'asticella e si gira di schiena per andare di là non gliel'ha detto la ricerca scientifica di far così l'ha vissuto sulla sua pelle sull'esperienza sull'allenamento quando nel nuoto un nuotatore sott'acqua va più forte che uno sopra l'acqua tutti si fermano cosa succede? ci dovrebbe essere più attrito nuota senza le braccia la sotto come fa ad andare più forte? quindi il campo oppure un atleta fa uno sforzo e ti dice sono superato la mia soglia di lattato vai a misurare ancora degli strumenti che non ti permettono di vederlo con precisione mentre l'atleta te l'ha detto ti rendi conto che tu arrivi dopo questa cosa fa sì che molto spesso la difficoltà di questo lavoro si incontra quando sul campo si verifino cose che difficilmente sono sotto controllo terza cosa hai a che fare con persone di conseguenza tu sei capace di analizzare la fibra la contrazione muscolare gli effetti che si producono nella trasmissione nervosa poi però devi riassemblare tutto per tornare all'atleta e alle sue problematiche mentre fa un determinato sforzo complesso questo non è facile non è facile entrare in uno studio così dettagliato però non perdere la conoscenza del movimento dell'effetto finale del movimento che a volte è dettato da certi parametri altre volte invece deve essere studiato e capito da altri parametri si rischia che in uno studio così complesso uno si spaventa rischia di sentirsi un tuttologo rischia di perdere il filo del discorso perché le scienze motorie partono dal movimento e acquisiscono competenze in queste diverse aree però hanno questa loro particolarità che li distingue da un altro tipo di aree di scienze di studio che richiedono poi un'applicazione nello sport specifico e che sono ugualmente altra complessità altro grado di complessità perché se no dice ok adesso ho competenze approfondite sulla parte biomeccanica biologia ok adesso applica lei nello sport e sembra sempre di riniziare sembra sempre di ripartire e di iniziare e qui devo dire che con tanti studenti che ho avuto in questi anni questo approccio nostro di studiare le scienze motorie è più ricco cioè concettualmente diciamo in linea media noi italiani siamo più capaci siamo più artisti quindi all'interno di sport discipline sportive troviamo soluzioni che sfuggono al concetto scientifico e altri studenti di altre nazioni per la loro tipologia di studio magari approcciano in maniera molto più corretta il problema ma non riescono a causa di queste difficoltà di assemblaggio e di approfondimento non riescono ad arrivare alla vittoria la prestazione cioè la capacità di riuscire a miscelare competenze che sono a volte molto difficili cioè lo sviluppo delle scienze motorie porta secondo me questa professionalità in più ai nostri ragazzi su un substrato culturale di capacità pratiche notevole i ragazzi che sono rimasti in contatto con me che lavorano all'estero sono apprezzatissimi apprezzatissimi perché sono capaci di gestire una squadra guidare il risultato portare avanti un insegnamento dei bambini dove magari altri sono meno capaci meno duttili su un'attività così complessa e così difficile c'è stato un lavoro di ricerca in particolare che ha segnato la tua carriera professionale sì ce ne sono stati vari però forse quello un pochino più significativo è stata una collaborazione che noi abbiamo tuttora con la arena è stato il momento in cui nel nuoto c'è stato l'inserimento di costumi diversi si è passati per un cambiamento del regolamento si cambiò una parola nel regolamento internazionale e nella parola che praticamente diceva i costumi sono fatti in tessuto entrò la parola fabric allora si studiarono componenti di polioritano neoprene sui costumi in tessuto che sono concettualmente in licra questa evoluzione del costume portò ad caos nel mondo del nuoto ci fu un periodo che va dal 2002 al 2009 dove prima iniziò la ditta australiana speedo a costruire costumi più veloci poi si arrivò a una vera e propria guerra fino al 2009 ai mondiali di Roma dove i costumi in polioritano o neoprene erano fondamentali per vincere se non avevi quello non andavi in finale in una gara mondiale e questo creò molto interesse mediatico molto caos perché culturalmente il mondo del nuoto non era pronto a gestire la tecnologia in molti sport l'evoluzione della racchetta della bicicletta dell'asta per il salto in alto è un'evoluzione che accompagna la crescita tecnica dell'atleta nel nuoto c'era un costumino di nylon e un paio di occhialini il pensiero che il costume faceva la differenza creò molto caos e creò molto interesse e dal mio punto di vista anche molto approfondimento molto studio un aumento di competenze incredibili basti pensare che il costume costruito dall'arena col quale noi collaborammo in fase finale poco prima dei mondiali di Roma per tutte le modifiche che il regolamento ci impose per le valutazioni diciamo sul campo nei nostri laboratori ecco quel costume lì quell'anno fu per la rivista americana Times considerato la 45esima invenzione più importante al mondo e se si pensa che al primo posto c'era un bacino sull'AIDS al secondo posto una strumentazione tecnologica su un'astronave pensare che al 45esimo posto c'era un costume da bagno fa sorridere però l'idea che con un costume non si trovava dove era il motore ma se te lo indossavi andavi due secondi più veloce sui cento era impressionante quello fu un momento particolare sia per la ricerca che si mise le mani nei capelli perché come al solito uno non si veste per andare più forte il nuotatore nei tempi passati si svestiva allora moralmente tutti si arrabbiarono quando Tarzan che aveva i costumi di lana si tolce poi si rasò i peli per andare più forte lì ci fu un po' di scandalo quando l'uomo cominciò a vestirsi con costumi lunghi alla gamba al petto per andare più forte sembrò strano poi la federazione dovette intervenire perché si crearono delle situazioni di completa ignoranza e caos e quindi c'erano delle disparità logicamente bisognava avere il costume era diventato un elemento discriminante la qualità del nuotatore stesso poi sono cambiate ancora le cose quel costume non è stato più accettato la federazione dopo il 2009 fermò tutto e ci ritornò ai costumi in tessuto che poi è in licra è un misto di elastene e di tessuto negli uomini con i jam e il pants e nelle donne logicamente senza le maniche questo per riequilibrare una situazione di caos che si era creata fra i nuotatori stessi poi i costumi erano scomodi da mettere ci voleva molto tempo erano strettissimi addirittura i nuotatori se ne mettevano una taglia più piccola o due taglie più piccole a volte due costumi uno sopra l'altro che non era neanche permesso dal regolamento questo per avere degli effetti di compressione impressionanti quindi non capendo più niente e tuttora non è ben chiaro l'effetto del costume perché in realtà si dice che il costume che era nato come pelle di squalo per ridurre il drag di attrito di sfregamento sulla pelle in realtà ha un effetto diverso l'aumenta leggermente quindi si entra su effetti complessi che portano questi studi a parificarli con quelli della formula 1 perché anche lì la resistenza gioca un ruolo determinante nella formula 1 per l'altissima velocità e la scarsa densità del mezzo aria in acqua per l'altissima densità del mezzo ma a basse velocità l'effetto è simile ho capito per quanto riguarda invece l'aspetto universitario tu hai contatto ovviamente con tanti studenti ogni anno qual è la tua sensazione per quanto riguarda dal punto di vista del professionismo cioè le persone che tu formi per poi andare entrare nel mercato di oggi delle scienze motorie gli studenti sono cambiati moltissimo gli studenti dell'ISEF erano sempre fra virgolette come vi dico io uso dei termini a volte un po' eccessivi ruspanti erano quasi tutti dei gran campioni erano degli appassionati che se gli si chiedeva di arrampicarsi super un muro partivano erano sempre in tuta e quando finivano le lezioni si trovavano in palestra nei campi e continuavano l'attività erano non dico meno preparati dal punto di vista dello studio diciamo un po' meno predisposti adesso arrivano un pochino più aperti allo studio però arrivano pseudomedici alcuni non hanno la tuta altri non hanno mai fatto sport non l'hanno ma questo non l'hanno vissuto come stimolo del movimento non lo comprendono lo comprendono teoricamente e quindi c'è un approccio un pochino più assettico magari più preparato dal punto di vista dello studio della qualità del lavoro un pochino più lontano da quello che era la concezione dell'attività motoria che conosciamo noi che abbiamo almeno io che ho iniziato l'Usef e che è importante è fondamentale le cose dovrebbero complementarsi d'altronde per dire noi a Bologna abbiamo lottato moltissimo per mantenere gli aspetti applicativi per far conoscere ragazzi attività motoria movimenti che loro non hanno avuto la possibilità di sperimentare o fare non perché chi insegna movimento deve saper fare il movimento però apprendere il movimento col proprio corpo è molto diverso che apprenderlo solo stando seduti o ascoltando qualche lezione o guardando delle diapositive è innegabile questo la sensazione non trasmette altra informazione che arricchisce quindi il discorso è difficile perché la professionalità del nuovo studente in scienze motorie secondo me avrebbe bisogno di essere maggiormente valorizzata perché ha delle logiche ricadute su tutto il sociale è inevitabile questo adesso più che mai dove l'attività motoria scarseggia l'educazione sanitaria scarseggia l'educazione alimentare scarseggia quindi ci vuole un recupero del corpo a livello proprio di ricchezza della persona ancora di più ed è un peccato che non ci sia una sensibilità politica questo anzi qui lo dico e mi assumo la mia responsabilità la riforma Germini è stata una pugnalata alle spalle che fatico tuttora a concepire perché io posso capire che sia stata una riforma fatta nella direzione di un risparmio l'università ha duemila cose che non vanno bene nepotismo problemi di sprechi scarsa funzionalità corsi inesistenti rami morti ovunque però la riforma se andava nella direzione di un risparmio economico sicuramente non sta creando questo perché questi macro dipartimenti e queste associazioni di diverse scuole che fanno perdere entità specificità competenze anche solo orientamento agli studenti non hanno portato né un risparmio economico né un miglioramento qualitativo a quel punto io sono abbastanza pessimista e abbacchiato di questa cosa perché non mi piace non mi piace perché sicuramente non c'è l'interesse vero di chi promuove queste cose a farle crescere a dar luce alle scienze motorie e dall'altra parte c'è chi invece protegge altre tipologie di business a fronte di una crescita delle scienze motorie quindi il quadro può essere questo sulla base di di fattori che purtroppo non sono gestiti dalle giuste persone io anch'io sono critico come lo sei lo sei tu in questo senso perché fa parte del nostro percorso di vita non soltanto di studio e di professionismo è qualcosa alla quale teniamo perché le scienze motorie sono veramente un elemento fondamentale nella vita di tutti e dovrebbe esserci sicuramente maggiore educazione fa parte proprio dell'educazione prima era legato e qui abbiamo avuto Angelo Alteri che parlava di quando l'ISEF preparava insegnanti di educazione fisica e quindi il ruolo principalmente era quello per insegnare educazione fisica nelle scuole poi si è evoluta tanto la situazione grazie a persone come te che fanno dedicano la propria vita alla ricerca e oggi le scienze motorie sono una disciplina fondamentale per la prevenzione l'educazione la prevenzione la conoscenza il miglioramento per carità nell'ambito della performance la rieducazione il recupero funzionale ci sono tanti tanti aspetti che devono essere contemplati nelle scienze motorie e sicuramente dobbiamo continuare a dar voce alle scienze motorie nel migliore dei modi noi qua cerchiamo di fare questo cerchiamo di sensibilizzare sia i professionisti che gli utenti all'ascolto delle scienze motorie perché in primi secondi ne conosciamo i benefici tu ovviamente dedichi il tuo tempo a quello a capire quali sono le interazioni col movimento nel corpo umano non solo quindi nel corpo nella psiche nell'uomo in generale ed è questo un messaggio fondamentale ok io ho grande stima e rispetto per il lavoro che fai e per anche gli altri ricercatori che sono passati qua perché è una situazione che immagino si debba fare con una vocazione cioè una cosa che al di là della passione si fa con con un credo perché altrimenti non è un un boccon dagliotti si debba dalla nostra parte ok fare il ricercatore in scienze motorie e a riguardo di questo ti chiedo come fa oggi uno studente in scienze motorie arrivare a fare il ricercatore nello scenario attuale con i tagli dei fondi le possibilità si sono ridotte molto e logicamente i pochi che riescono a intraprendere la strada incontrano ulteriori difficoltà il percorso di preparazione universitaria è tale che si individua qualche soggetto che abbia competenze o attitudini diciamo ad un lavoro un pochino più attento metodologico scientifico e che sia motivato a questo e lo si cerca di instradare ci sono i concorsi ci sono dei passaggi ci sono dei periodi che in Italia sono lunghissimi in cui si lavora all'interno con borsi di studio all'interno di progetti di ricerca si aumentano le competenze poi uno si mette alla prova se è capace di uscirne di produrre la tendenza purtroppo è quella di allontanarsi dell'Italia perché questo percorso in Italia è complicatissimo all'estero è molto valorizzato al di là del quanto ci si impegna economicamente sulla scommessa delle persone ma anche dandole le possibilità di verificare la qualità perché molti dei nostri ragazzi vengono tenuti diciamo sotto ordine all'interno di un gruppo di lavoro a svolgere delle mansioni un pochino meno importanti e non si riesce mai a capire se ci sono le potenzialità le qualità per poi creare a loro volta un motore un motore propositivo la cosa ti dico io sono stato abbastanza fortunato perché sono entrato tardi all'università però non sono entrato all'interno di un gruppo quindi non avevo un ordinario un associato che mi imponevano noi studiamo questo fai questo adesso svolgi un certo lavoro di seconda di seconda importanza poi vediamo se vale io sono subito ambientato un mio laboratorio nell'acqua con collaboratori bravissimi con competenze che si integravano alle mie qualche d'uno con notevoli competenze di biomeccanica altri con competenze di fisiologia io portavo di mio molto l'attività l'acqua nel senso quindi davo un senso di raccordo a tutto questo e siamo riusciti a produrre e farci un'area nostra di conoscenza sia nell'ambito rieducativo che nell'ambito sportivo però vedo i ragazzi giovani faticano moltissimo a uscire perché il sistema non è pronto a questo e i più bravi purtroppo si allontanano logicamente anche qui il sistema non è funzionale la differenza poi la fanno le persone laddove in un gruppo di ricerca ci sono personaggi validi che ti valorizzano e ti fanno iniziare questa strada si vedono poi eccellenze perché nei nostri campi come dicevo prima i nostri studenti sono bravi quelli che vengono fuori quelli che hanno i numeri sono veramente bravi manca un po' l'approccio scientifico ma culturalmente in Italia manca cioè l'allenatore da noi prima è un mago poi dopo diventa un professionista quando studia quando anche da solo si vuole approfondire va a fare corsi segue fa e guadagna competenze ma di base nasce con delle quasi delle capacità di analisi sue superiori o di valutazione dell'atleta della tecnica che fuoriescono magari da freddi modelli di valutazione quindi è una strada che vive un pochino in compromesso poi ultimamente ripeto la riforma accorpando così ha fatto sì che ex facoltà un pochino più deboli vengono mangiate da più forti quindi quei ragazzi che fanno domande di dottorato per quella specifica area sono sempre di meno perché vengono assorbiti nelle aree più forti in ambito medicale o in altri il fatto che si proiettino all'estero dovrebbe far riflettere molto perché esistono dei modelli funzionanti e funzionali all'estero anche in nazioni piuttosto vicine alla nostra e a mio avviso bisognerebbe basterebbe osservare come vengono introdotte le scienze motori all'estero per essere poi riproposte nel nostro paese e questa cosa che ancora oggi mi lascia sempre molto sorpreso che non venga fatto non è che stiamo inventando nulla stiamo semplicemente dando la forma a qualcosa che già esiste e che deve avere assolutamente una posizione nella società nella comunità per non gravare poi in tutto quello che è il percorso di un sistema sanitario che ormai è veramente molto affaticato credo che questa è una mia opinione personale poi ognuno ha la sua assolutamente noi in Italia tendiamo a a volere il tutto subito più che a investire e nell'ambito di ricerca questo non funziona assolutamente perché si investe prima si fa ricerca e poi vedremo i frutti della ricerca e in Italia invece cerchiamo di avere tutto subito e questa cosa non funziona è una mentalità che è stata sdoganata negli ultimi anni questo di dire adesso le cose stanno così dopo ci penseranno gli altri questa cosa qui non costruisce questo modello non costruisce perché per imparare ad essere un buon docente un buon educatore un buon ricercatore ci vogliono anni di lavoro quindi di conseguenza io non posso subito cercare di fare qualcosa tanto dopo chi se ne frega questo non aiuta né me non aiuta mio figlio non aiuta quello che verrà dopo e purtroppo nel nostro ambito universitario si vedono i riflessi del sociale perché su tutti gli ambiti questo modello purtroppo viene portato avanti io vedo palladini della giustizia che combattono che le persone fanno la differenza sono persone che hanno il piacere di fare il loro lavoro che è l'elemento determinante quindi ci credono danno e producono come molti personaggi che ho visto che tu hai investito hai intervistato qui sui quali loro hanno investito moltissimo e sono degli esempi fondamentali per i nostri ragazzi però tutto attorno c'è una gran massa che spinge su chi te lo fa fare perché fai così chi se ne frega se i nostri ragazzi non hanno più l'attività sportiva che gli aiuta a crescere gli aiuta a conoscere la vita a lottare a faticare a migliorarsi a star bene anche a star bene fisicamente col proprio corpo per trasmettere positività poi anche su tutti gli ambiti di lavoro di pubblica relazione assolutamente una domanda che faccio spesso è quella relativa ai mentori perché per arrivare a questo grado di consapevolezza questa tipologia di esperienza capita di trovare persone che interferiscono in maniera positiva anche nel percorso tu hai avuto dei mentori che ti hanno indirizzato o influenzato in maniera positiva? sì certamente penso un po' come tutti ci sono dei riferimenti che rimangono impressi ci sono delle persone che dicono spiegano cose in maniera essenziale che ti entra dentro che rimane che la senti tua è una spiegazione che ti porterai sempre avanti perché collimava esattamente con quello che non riuscivi a dire e non riuscivi a fare e ce ne sono stati in vari ambiti in ambito di studio per parentesi so che è stato qui il professor Di Prampero che è un faro di riferimento per chi lavora nell'ambito della ricerca sportiva ma io ho avuto la fortuna di studiare per tre anni alla scuola dello sport lì ho avuto professori come il professor Conconi il professor Sai Bene il professor Mognoni gente che ha fatto la storia della ricerca in ambito sportivo poi ho avuto altri punti di riferimento durante incontri le relazioni chiacchiere fra amici perché quando ho studiato io l'attività sportiva una volta fatto l'ISEF bisognava muoversi parlare andare all'estero io ho studiato mi sono laureato in pedagogia poi mi sono laureato in sociologia ma non era non era sport sono andato a sport per tre anni ma non era sport avevo bisogno di mordo e ad esempio ho trovato dei riferimenti all'estero come il professor Cometti che è stato un esempio perché quando io sono stato da lui a Digione gli studenti entravano in palestra e lavoravano cioè si studiavano facevano movimento si analizzavano e si misuravano elettromiografia salti studiavano facevano ricerca applicata ed è un rapporto fra campo e studio che abbiamo cercato anche noi di riprodurre alla nostra università con i nostri mezzi anche a Bologna oppure un altro mentore è stato lo stesso Ratko Rudic perché lui ha dimostrato come si mettono assieme queste competenze nell'alto livello lui voleva attorno a sé specialisti e professionisti dell'ambito psicologico nell'ambito della preparazione motore dell'ambito tattico e li coinvolgeva una cosa che mi ricordo spesso che si cercava di prendere informazioni lattati potenze energia scatti secondi dati e quando si assemblavano era probabile che lui si girasse e ti dicesse e Giorgio e adesso per vincere come facciamo e qui si gelavano le ossa perché non è così direttamente proporzionale due milimoni di lattato con facciamo questo facciamo quell'altro c'è tutto un percorso che devi tradurre cioè trasformare proprio la ricerca lo studio in qualcosa che lui diceva correttamente dobbiamo fare perché vogliamo vincere perché dobbiamo tirare fuori il meglio che c'è questo era uno stimolo fortissimo perché le due cose ripeto difficilmente parlano ma non è così immediata la lettura non è allora facciamo perché uno può lavorare investire non è detto che si vince sicuramente si crea un plafond di base molto molto importante e lui mi ricordo croato ha trasmesso sicuramente quell'immagine di atleta di altissimo livello che vuol vincere con tutto se stesso e mi ricordo che mi raccontò una volta quando giocava nel Partizan di Belgrado immaginati questi 10-15 animali sui 2 metri 2 metri 10 di più di 100 chili che palla nuoto contro squadra ungherese violentissima la mattina vincono il pomeriggio la finale e dopo mangiato loro erano abituati a rilassarsi giocando più che altro a scacchi che più che a card e giocando a scacchi anche lì volevano vincere e allora fra di loro litigarono e si scoppiò una rissa si dietero un mucchio di botte fra di loro due di loro andarono in ospedale con un dito rotto uno un occhio tumefatto dopo due ore in acqua finale coppa dei campioni con una squadra ungherese di Budapest e hanno vinto la finale come perché avevano una carica addosso che per loro era fondamentale dare tutto dare tutto pur di raggiungere un risultato caratteristica spesso presente in tutti gli atleti che vincono chi vince se l'ha chi riesce a a gestire come se niente fosse la sconfitta rischia di essere sulla china io mi ricordo io ho avuto anche l'esperienza scacchistica per dire secondo me questa il gioco degli scacchi è molto simile perché dopo che tu sei un paio d'ore che analizzi una posizione per cercare di trovare una superiorità e arrivi a un certo punto che non la trovi e devi tornare indietro per analizzare quando dici ma dai lo stesso tanto non la vede hai perso perché non hai più la forza di rimetterti in gioco perché è fatica è stress è terribile se ce l'hai sarai un vincitore se a quel punto dici ma sia lo stesso incominci a diventare un perdente questo logicamente stiamo parlando di sport ad altissimo livello dove lo sportivo ad alto livello è un altro animale è un animale da combattimento io sono estremamente affascinato essendo stato uno sportivo essendo ancora oggi uno sportivo diciamo essendo stato un atleta essendo oggi uno sportivo di scovare quelle caratteristiche della performance dell'alta performance nella parte sia di strategia che di motivazione che sono queste quelle caratteristiche che parlavi per poi poterle riutilizzare in determinati contesti della vita ok perché sono molto affini ed è per questo che lo sport ci può insegnare a essere migliori anche in altri ambiti e questa è la mia esperienza quindi sempre un'opinione mia quando ho conosciuto atleti vincenti che sono sempre stati vincenti e hanno applicato quel modello di pensiero ad altri contesti vita hanno sempre tutto grossi risultati e questo è fenomenale è per questo che un punto in più le scienze motore hanno un ruolo fondamentale nella vita delle persone per estrarre proprio le strategie sia da un punto di vista scientifico di conoscenza ma anche di strategia perché possono essere applicate possono educare migliorare l'essere umano in generale quindi è una scoperta anche perché per caità le scienze motorie tu sei molti anni che sei impegnato sia dal percorso di ISEF che con le scienze motorie sono comunque abbastanza recenti diciamo così rispetto ad altri percorsi di studio e c'è tanto da fare questo può essere una caratteristica in positivo per motivare chi oggi si trova in questo ambiente e ha voglia di fare bene in questo lavoro ha questa passione perché senza dubbio questo è un lavoro che senza passione non si fa o per me si fa veramente molto male e noi invitiamo anche sempre uno magari si ci mente una cosa se non è quella che fa per te è meglio se cambi che se continua a fare in maniera mediocre lo sport lo dimostra lo sport a un certo livello lo dimostra sicuramente come dicevo prima i nostri ragazzi sono in gambissima e devono intraprendere di più l'aspetto scientifico perché gli dà forse quel quid di professionalità per il quale a volte veniamo un po' tacciati di essere troppo artisti e meno professionali assolutamente quello sarebbe proprio secondo me il mix ideale ma ripeto l'esperienza io ho tanti ragazzi alcuni lavori in America alcuni in Olanda alcuni in Spagna riescono perché hanno la capacità di risolvere i problemi e lo sport l'attività fisica te ne pone in continuazione in continuazione perché l'atleta varia le problematiche come tu arrivi a un livello incontrerai un avversario sempre più forte quindi devi essere capace di evolverti insieme a lui una versatilità continua e l'esperienza di Cometti a Dijon immagino sia stata forte un centro il CEP straordinario penso credo il sogno per tutti quelli che lavorano in un ambito di scienza motore di ricerca soprattutto perché era un ambiente fenomenale è un ambiente mi pare che c'erano ancora oggi delle persone c'è la sua figlia che continua a seguire il progetto purtroppo mi pare non ai livelli in cui c'era lui perché anche lì si vede insomma vedi Gilles non era un ricercatore infatti lui ha pochissime pubblicazioni scientifiche lui era maestro di conferenza cioè una persona che riusciva a trasmettere i concetti più complicati delle metodologie di allenamento lui in particolare sempre lavorato sulla forza ma li traduceva praticamente lui sapeva rendere difficile il facile attraverso la semplicità cioè riusciva a trasmettere gli studenti questa capacità di entrare nel merito delle cose senza rimanere staccato dalla realtà infatti ripeto mi colpì moltissimo quando ormai sono passati quasi 30 anni quando a Digione vedi come lavoravano voi loro rispetto al mio vecchio Isev dove facevamo gli esercizi in palestra o in piscina facevamo le progressioni natatorie loro avevano un approccio dove non c'era c'era meno didattica ma molta più approccio scientifico sportivo poi a Digione come in tutti i centri francesi tu saprai meglio di me lì c'era la nazionale di atletica leggera c'era Gunter i lanciatori che si allenavano lì quindi i ragazzi avevano sempre questi riferimenti poi di atleti di altissima qualità da poter vedere e studiare quindi sull'aspetto pratico altra cosa importantissima andare sempre sul campo cioè per il laureato di scienze motorie è fondamentale fondamentale essere una persona versatile e stare con le persone ecco queste sono delle caratteristiche comuni no? la laureata di scienze motorie è una persona che deve avere per eccellere per forza deve amare stare con le persone perché altrimenti questo collegamento arricchisce tutti e due l'aspetto scientifico e l'aspetto applicativo da campo è difficilissimo è difficilissimo ma come si riesce a avere osmosi il livello sale sale tantissimo come ti dico noi in modo specifico lavoriamo con atleti di altissimo livello adesso lavoriamo con la nazionale di nuoto testiamo i velocisti in preparazione delle olimpiadi di Rio e è difficilissimo perché più l'analisi è dettagliata più è complessa da portare sull'allenamento perché noi parliamo di Watt parliamo di Newton parliamo di idrodinamica l'allenatore ha bisogno che queste competenze siano tradotte in esercizi in modelli sui quali puntualizzare l'attenzione dell'atleta in gesti tecnici la cosa come dicevamo prima con l'esperienza della pallanuoto non è così scontata non è così facile ma è l'elemento che poi ti determina il risultato io credo abbiamo detto un sacco di cose ha portato tanto valore al talk alle persone che ci stanno seguendo sicuramente riuscendo anche a delineare quelle che sono le caratteristiche indispensabili per emergere nel contesto delle scienze motorie e per avvicinarsi anche con un approccio scientifico e professionale chi ti cerca dove può trovarti hai dei link una mail qualcosa per essere contattato il nostro laboratorio di Bologna al centro sportivo record istituzionale con l'e-mail universitaria ritrovabile facilmente è Unibo quindi per i nostri docenti nome e cognome Unibo è molto aperto agli allenatori nel senso che noi siamo spessissimo abbiamo la fortuna di avere ufficio e bottega cioè la piscina a disposizione e noi misuriamo siamo continuamente in piscina adesso stiamo sviluppando analisi con sensori inerziali in acqua perché l'acqua è difficile da studiare è difficile da studiare per la tecnologia che si può utilizzare che molto spesso è strumentazione appositamente costruita per stare in acqua non si può prendere un metabolimetro e portarlo in acqua come se ne fosse bisogna avere certe caratteristiche però nel laboratorio noi siamo lavoriamo con gli studenti gli studenti da specialistica fanno laboratori in acqua gli allenatori gli atleti vengono e di conseguenza insieme cerchiamo di complimentarci con questo tipo di informazione con questo tipo di attività noi addirittura adesso a fine mese avremo il 29 un convegno che poi ha organizzato il comitato regionale della FIN dove ci sarà una parte teorica la mattina dove abbiamo anche dei relatori verrà un allenatore portoghese un ricercatore portoghese pomeriggio però andremo in acqua quindi faremo in acqua delle cose utilizzando strumenti valutazione funzionale spiegando come gli allenatori possono a loro volta ripetere queste cose nelle loro realtà con strumentazioni diverse l'importante è che usino quelle procedure che a volte vengono un po' lasciate perché guarda nel mondo del nuoto purtroppo l'allenatore è sposato col cronometro e col cronometro crede di risolvere tutti i problemi invece il nuoto la prestazione del nuotatore dipende da diversi fattori guardando il cronometro guardi il risultato finale ma non sai come cambiano i fattori all'interno quindi il tuo lavoro molto spesso non è compreso perché alla fine vai un secondo più veloce ma non sai dove sei migliorato dove sei piggiorato se l'efficienza tecnica è calata se le resistenze in acqua sono aumentate se la tua potenza è migliorata quindi tu hai sempre un sunto finale hai bisogno di altri strumenti io dico sempre e anche qui mi ripeto sono piuttosto aggressivo il nuoto è l'età della pietra è l'età della pietra perché in acqua ancora non siamo in grado di valutare bene molte cose e poi lo dimostrano i risultati stessi ad ogni manifestazione i record crollano con discreta facilità se facciamo un confronto con l'atletica leggera dove i record sono piuttosto stabili nel nuoto ai mondiali 5, 6, 7 record del mondo a parte il tempo dei costumi dove venivano giù come brustolini però vuol dire che siamo in evoluzione se si pensa che l'efficienza propulsiva del nuoto è a livello del 60% vuol dire che nella corsa il 98 97 98% vuol dire che di quello del potenziale che abbiamo ne usiamo solo la metà questo è impressionante in uno sport così quando riusciamo a usarne di più succede quotidianamente si migliorerà moltissimo moltissimo di conseguenza stiamo evolvendoci in questa direzione quindi un'ulteriore sfida per chi oggi è impegnato nel campo pratico nel nuoto nella ricerca e sicuramente che può entrare in contatto con te e sei un pioniere io ti ringrazio di essere stato qua Giorgio e sono ripeto certo che ci sono state tante informazioni di cui abbiamo parlato molto utili a tutti quelli che ci hanno seguito spero ci siano altri momenti di confronto l'evento di cui hai parlato sarà annesso all'articolo che ti presenterà quello del 29 e quindi ti ringrazio ancora di essere stato qua spero di aver stuzzicato qualche curiosità qualche voglia di dibattito appresso ringrazio dell'invito e faccio i complimenti per la vostra iniziativa grazie 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 a tutti